Buongiorno, grazie di essere con noi e comincio subito a introdurveli nell'ordine con cui poi interverranno oggi. Domenico Donvito è direttore dell'ICT dell'ISTAT, Mario Terranova è responsabile dell'Ufficio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche dell'Agid, dell'Agenzia Digitale. Robert Laurini è professore emerito dell'INSA Politecnico di Lione, Vicente Rojo Caballero, responsabile della Public Administration Healthcare di Indra e farà la sua presentazione in inglese. E infine Alessandro Mantelero è professore per sé il Politecnico di Torino. Il tema della sessione di oggi, che ho il piacere di introdurre, è quello del, è molto ampio, troppo forse, Big Data, Open Data, Analytics, strumenti e opportunità per la ripresa dello sviluppo. Però, da questo punto di vista, ci offre l'opportunità di affrontare questo nodo, questo snodo importante della relazione tra le nuove disruptive technologies e le opportunità di rilancio della crescita, che è così essenziale per quanto riguarda in particolare il nostro Paese. E allora ho pensato di impostare alcuni di questi temi, prendendo un momento alla larga, in modo da dare poi la possibilità a ciascuno dei relatori di sviluppare a pieno le tematiche che sono loro più care. Quindi ho impostato questa presentazione e poi tutte le presentazioni saranno a vostra disposizione, lo metteremo a disposizione dell'organizzazione per questo. The various data-driven economy, implications for growth and policy. E comincierei subito dalla storia del nostro Paese. Ho mappato qui la storia del mercato italiano dell'ICT nel 2004 al 2013. E naturalmente non vi sarà possibile seguire tutte le circonvoluzioni immediatamente. Vasti sapere che in verde c'è il mercato dell'IT, in rosso il mercato delle telecomunicazioni e in blu l'andamento del PIL. E vi vorrei chiedere di apprezzare soltanto una cosa, che è la grande crisi del 2008. Il 2008 ha cambiato fondamentalmente i parametri con cui si valutano le relazioni fra queste grandezze. E quindi a questo punto ho depurato questa serie. E a questo punto ho depurato questa serie in modo da consentirvi di apprezzare questo fenomeno. E quello che vi chiedo di osservare è che molti di noi sono cresciuti con una common wisdom. Che comunque sia il mercato dell'IT sarebbe cresciuto più del PIL. Il 2008 ha segnato il momento in cui sono cambiate drammaticamente queste regole. e ci siamo resi conto che invece nel momento in cui il tasso negativo di crescita del PIL cambia il flesso fondamentalmente dei tassi di crescita del PIL, il tasso di crescita dell'IT tende a peggiorare più di quello del PIL. Questa è una verità drammatica, si è verificata in tutta Europa. Ma vorrei chiedervi anche di osservare che nel corso del tempo in realtà questo gap si amplia. E allora, da questo punto di vista, queste sono le common wisdom del passato. Questa è l'acquisizione che ci ha portato alla grande crisi del 2008. che le regole cambiano, ma oggi il concetto chiave che vorrei proporvi è questo. Che in presenza di un GDP decrescente, il mercato di IT tende a flettere per motivi sia congiunturali che strutturali. E questa flessione non è compensata dall'aumento di valore del mercato delle digital technologies, delle nuove disruptive technologies fondamentalmente, il cloud, il mobile, il social networks, il business analytics. E per questo, qui ci torno, fondamentalmente lo schema è questo. Che le nuove disruptive technologies invadono il mondo dell'ICT tradizionale, e erodono il volume di business che era legato ai siti tradizionali. Determinando quindi una flessione di questo mercato che non è compensato da quello delle nuove disruptive technologies che sono intrinsecamente deflazionistiche. Perché in realtà cannibalizzano il mercato precedente e l'aumento degli shipments degli smartphone e dei tablets non compensa in valore assolutamente la flessione dei mercati tradizionali. Il che significa che l'insieme di questi mercati è una flessione strutturale. Il che significa che la ripresa, se mai ci sarà, non risolverà a livello congiunturale il problema della ripresa dell'information technology in questo Paese. E quindi noi abbiamo visto cinque anni di continua flessione del mercato dell'IT in questo settore, ma anche una ripresa di tipo congiunturale non porterà benefici sostanziali rispetto a questo trend perché all'elemento congiunturale che viene bilanciato si ne aggiunge uno strutturale che è quello dell'aspetto cannibalizzante delle nuove tecnologie. E quindi fondamentalmente qual è la risposta? Che il futuro dell'IT non può essere che fuori dall'IT. Dove? In quelli che chiamano i mercati adiacenti. I mercati adiacenti sono l'e-commerce in grande sviluppo, ma perché aumenta fondamentalmente non tanto la componente IT quanto il volume complessivo dei beni, dei servizi e aggiungo dei dati transati. Si configura quella che io definisco come Data Driven Economy, su cui parlerò ora. Il tema del Big Data e quindi del modo in cui essi contribuiscono a trasformare non soltanto i processi delle imprese, ma anche l'organizzazione e la struttura delle industrie. Smart Cities che incorporano tutto ciò. Il tema della Cyber Security fondamentalmente è una grande espansione di tutti quei business services che vengono dal mashup del cloud. E qui si pone il tema di come si rapportano, come dire, le forniture di informazioni di base, di grandi mappe del nostro territorio, della nostra popolazione, eccetera, fornite dalla pubblica amministrazione, come base di un possibile nuovo ecosistema, di un nuovo sistema industriale che unita all'iniziativa privata consenta uno, sviluppo di una nuova industria, ricordiamoci fondamentalmente che l'industria delle app negli Stati Uniti ha già prodotto quasi 500.000 posti di lavoro. Si tratta però, a questo punto, di far emergere questo iceberg dei mercati aviacenti. Questo è il tema di cui si parla oggi e mi vorrei vedere. E per questo faccio riferimento all'elaborazione e collaborazione di Michael Mandel del Progressive Institute, un think tank molto importante di Washington con cui collaboriamo nella nostra fondazione. Ho dimenticato di dire che parlo in qualità del presidente della fondazione Think collaboro in modo organico. E la riflessione che vi voglio proporre è questa. Quanta parte del valore dei dati non si trasforma in creazione di valore misurabile? E quindi quanta riserva di sviluppo undisclosed esiste all'interno come potenzialità di impatto rispetto allo sviluppo economico complessivo e alla crescita del GDP nelle nostre economie. Perché nell'economia industriale la creazione di valore economico avviene attraverso la forma di beni rispetto a questi mercati che vanno su questi mercati. nell'economia dei servizi abbiamo un'ulteriore diversificazione di attività oggi noi abbiamo tutta questa nuova economia dei dati che però certamente la produzione e l'uso dei dati sta divenendo un componente fondamentale della creazione di valore economico. ma abbiamo cominciato già a discutere con alcuni di voi ma in fondo non è un pezzo dei servizi allora l'ipotesi su cui stiamo lavorando è che no è una cosa diversa perché c'è una differenza sostanziale che deve avere dal fatto che i beni sono tangibili possono essere immagazzinati il consumo in generale separato dal momento della produzione i servizi sono per definizione intangibili è difficile immagazzinarli come facendo a immagazzinare un taglio di capelli e il consumo avviene al momento stesso della produzione i dati sono intangibili come i beni ma possono essere immagazzinati e spediti per ancora più facilmente dei beni il consumo è separato dalla produzione quindi sono delle differenze intrinseche rispetto alle caratteristiche di queste attività e allora siamo in grado di misurarlo e di catturarlo siamo in grado di quantificare tutta quella parte dei mercati adiacenti che vi ho mostrato di cui l'economia dei dati è così ampia parte alcune ulteriori riflessioni di fatto stiamo vedendo una trasformazione progressiva dei servizi tradizionali in attività data driven con caratteristiche molto diverse caso di Amazon rispetto al sistema del retail dal retail al retail online la prima è un'industria fortemente intensiva dal punto di vista del lavoro distribuita capillare e frammentata il retail online cambia completamente queste cose e desertifica dal punto di vista dell'occupazione di questo mercato ne aumenta tremendamente l'efficienza e apre la strada a nuove traiettori di sviluppo un'industria completamente diversa rende esportabili intensicamente esportabili industrie che sono che sono nella dimensione tradizionale assolutamente locale però misurare la creazione di valore data driven è difficile non è facile assegnare un valore monetario ai data flows non è facile scollegare i dati dei beni e dei servizi scorporarli i data flows spesso vengono in due direzioni e allora però vorrei farvi riflettere rispetto all'enorme creazione di valore che non viene realizzata e catturata in tutta la dimensione del consumo dei dati le apps, le email, i giochi le mappe, la negazione, il search, i social media, lo storage, la trasmissione, i video e tutta questa dimensione è la dimensione di cui il cui valore rimane come dire in potenza non si esprime in termini di impatto rispetto anche alle grandi variabili della contabilità nazionale così come esiste una forte dimensione di investimenti non misurati nei dati tutti i database della genomica i database finanziari i database di social media i database del consumer transaction quelli relativi alle transazioni della salute i database climatici quindi un enorme iceberg di cui vediamo a malapena la punta un iceberg di valore e è assolutamente vero non il mio modo di vedere il mio modo di vedere di Michael con cui abbiamo un dibattito in corsa che questo non venga assolutamente catturato dalle statistiche ufficiali perché qui avete la storia dei total consumer data services negli Stati Uniti dal 2001 al 2012 ed è vero che qui si paga l'impatto della flessione delle tariffe che è massiccio ma non emerge in nessun modo la valorizzazione di queste nuove fonti di creazione di valore tanto che il risultato finale è in termini di valore meno 0,7 e andate a vedere un pochino cosa succede in termini della spese in consumo reale e personale per l'accesso a internet per gli accessi a internet in questa situazione dove dominano le disruptive technologies proliferano gli smartphone e i tablets gli accessi a internet secondo il bureau di economica analisi americano dal 2011 nella prima metà del 2012 va in flessione dato evidentemente ridicolo che mi mostra una volta di più come dire il mestiere che ho fatto per 25 anni spesso sia assolutamente che è quello della misurazione di questi dati spesso generi topolini e come questi dati siano assolutamente deceiving perché ci sfuggono ci sfuggono gli elementi fondamentali della creazione del valore tanto che sembra che il valore di consumer data services in questo semestre sia molto più basso della media della generalità dei consumer services sul mercato americano altro dato evidentemente ci sfugge poi tutta la dimensione della cross border data flows che sono dati finanziari internal corporate data legami con l'off store web pages di tutto la domanda globale per bandwidth per il cross border è cresciuta del 49% del 2008 e del 2012 contro il 2,4% del real trading goods and services ma molto di questi dati cross border non vengono contati come export o import nelle statistiche del commercio internazionale e allora Mandel in particolare PPA hanno sviluppato una metodologia abbastanza complessa per la valutazione per la stima della creazione di valore che è legata al consumo di measured personal data cosa ne viene fuori? viene fuori che su questa base il tasso di crescita reale del GDP negli Stati Uniti nel primi due trimestri del 2012 è stato dell'1,5% ma incorporando la stima del pezzo di iceberg che rimane sotto che è quello della valorizzazione dei dati vengo ad avere un incremento che è al 2,3% allora ovviamente non è legittima alcuna meccanica trasposizione ma è evidente che l'impatto dell'emersione della parte immersa dell'iceberg del valore dei dati può generare un formidabile boost per lo sviluppo economico complessivo del sistema e quindi dare sostanza al fantasma dei mercati adiacenti che vi ho mostrato nella terza slide con questo concludo e introduco un po' di temi per la vostra discussione perché spero avremo tempo di sentire i vostri contributi e le vostre valutazioni che credo estremamente stimolanti il primo tema siamo d'accordo che il fatto di riuscire a trovare una metodologia per integrare il valore dei dati faccia una grande differenza sui sistemi correnti di contabilità nazionale questa è una domanda a cui ovviamente non può essere l'ideale destinatario voglio introdurre la differenza che è quella tra dati morti e dati vivi che è molto provocatoria io chiamo dati morti quelli che derivano di solito sono supply generated generati dalla parte dell'offerta sono dati che vengono congelati messi in frigorifero e poi li utilizzo periodicamente per fare le mie considerazioni nel modo meno legittimo dal punto di vista delle tecniche statistiche che utilizza ma dico perché dovrei utilizzare le statistiche sanitarie degli ultimi dieci anni quando posso utilizzare direttamente grandi masse di dati generati in tempo reale dal sistema sanitario nazionale in Inghilterra non lo fanno più non le usano più usano soltanto dati reali freschi crisp ma vi rendete conto dell'impatto che questo verrà ad avere rispetto ai tradizionali sistemi di ricerca econometrica statistica di ricerca di mercato la totale disintermediazione queste industrie vanno di fronte a una profonda trasformazione spesa se ci integrate dentro tutta la dimensione dell'internet delle cose della sensoristica del machine to machine eccetera perché semmai la stima di Mandel del 30% è sottodimensionata perché è basata soprattutto sulle transazioni strutturate ma non invece sull'impatto dieci volte superiore almeno di tutte quelle transazioni non strutturate che vengono dal mondo dell'internet delle cose no? il frigorifero o l'autonica il mio cane l'impatto del cloud nell'accelerazione nella trasformazione dei servizi tradizionali in data driven activities l'impatto c'è moltissima roba non possiamo stare qui un paio di giorni sul non solo sui processi dei big data non solo sui processi di impresa ma sulla trasformazione dell'industria e in particolare rispetto alla pubblica amministrazione vorrei veramente sapere quali sono quindi le vostre strategie per gestirlo le aree in cui i big data si svilupperanno più velocemente considerazioni molto importanti sentiremo tutta una serie di tematiche rispetto ai territori intelligenti rispetto alle smart cities la tematica importante della defraimentazione del sistema digitale europeo per consentire un flusso libero di dati che stimoli lo sviluppo economico finalmente molto bello poi abbiamo data gate poi abbiamo altre cose piuttosto sgradevoli abbiamo il problema di come far fronte rispetto alle politiche delle varie google che pretendono di sottomettere le decisioni pubbliche amministrazioni delle altre pubbliche amministrazioni decisioni che vengono prese da qualcuno negli Stati Uniti insomma cose imbarazzanti ce ne sono parecchie parliamone perché sono tematiche evidentemente da affrontare con questo ho finito e quindi darei per primo la parola a domenico ottobre del dovito dell'Istel vai mi sembra di aver capito che tu stia dicendo che così come gli si 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 Dunque, quello che ho mostrato prima è che in realtà c'è una contrazione dell'IT che tende a essere sempre più matura, uno sviluppo di disruptive technologies che però sono cannibalizzanti perché sono intrinsecamente deflezionistiche e però sono il core che consente lo sviluppo dei mercati adiacenti che sono in realtà la grande potenzialità di sviluppo perché ci ho messo tre frecce sopra perché l'impressione è che sono quell'iceberg di cui la dettaglia in economy è un elemento da caratteristica specifica dell'attività dei dati come attività economiche. E quindi un grande potenziale di sviluppo che evidentemente è quello, insomma, è l'economia digitale come motore di possibile sviluppo di questo secolo. Questo è quello di cui stiamo parlando. Il problema però è che bisogna far emergere l'iceberg, dargli concretezza. Questo è il tema. Non c'è anche il tema di pensare che però il sistema industriale si cresca. No, no, io quello che sto dicendo è che è destinato alla progressiva flessione strutturale. Certo, assolutamente. Cioè, è un pessimo posto dove lavorare oggi. Parliamoci con molta franchezza perché le aree di sviluppo sono al di fuori. Lì si parla soltanto di efficientizzazione e di contrazione. Efficientizzazione significa poi, alla fine dei conti, riduzione dei posti di lavoro. No, perché più di questo non si può. Certo. Beh, se hanno fatto già... Mandela ha pubblicato questo paper, andatelo a cercare sul PPI, dove lui documenta più di 500.000 posti di lavoro già nella... Ma app economy negli Stati Uniti. E cioè, si tratta... E' qui dove ci sono grandi possibilità, no? All'interno di tutte queste nuove dimensioni che avevo mostrato sulla destra. Ma qui ho preso già un po' tempo per cui... E comunque tu e io siamo co-responsabili di questo. E... Domenico, per esempio. Switch. E... 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 E...